quando si parla di marketing si pensa marketing uguale strumenti per avere nuovi clienti siete d'accordo io mi occupo di marketing da vent'anni e il 90 per cento della letteratura di marketing punta proprio a questi temi all'acquisizione a trovare nuovi clienti a conquistarli e è comune sentire che se tu hai più clienti se acquisisci continuamente nuovi clienti guadagni e vedo già qualche testa che si scuote e in effetti va un po' sfatato il mito che continuamente avere nuovi clienti sia l'unico modo per guadagnare perché nella mia esperienza il focus sul acquisire nuovi clienti si accompagnava a non sufficiente attenzione a cosa ci faccio poi una volta che sono venuti da me cosa faccio io di questa fiducia come me la me la gioco e nella mia esperienza in tantissimi tipi di attività a fare la differenza non è chi acquisisce continuamente nuovi clienti ma chi fa innamorare i clienti che ha avuto chi lascia il segno perché il mondo è cambiato e quella forma di marketing molto aggressiva molto basata ci sono miei colleghi che fanno corsi dal titolo falli a boccare come se fossero dei pesci non so a voi a me personalmente io sono una grande amante delle persone delle relazioni umane questa visione del cliente come pesce o di un bersaglio a cui sparare non è che mi piace moltissimo è lo stesso termine consumatore mi parla comunque di un qualcuno che consuma che ha una anche un'accezione negativa e mi sono resa conto che le aziende che andavano meglio in tutti i settori non erano quelle brave ad acquistare nuovi clienti ad accaparrarsi nuovi clienti ma erano quelle brave a tenerseli o comunque trasformare quella fiducia in una relazione che lascia il segno il canale di marketing numero uno oggi non è la pubblicità non sono i social non sono le campagne ma sono i clienti stessi i vostri clienti sono il miglior marketing della terra e questo è una novità che ancora fatichiamo a metabolizzare perché in fondo sono solo dieci anni o poco più che i clienti lasciano veramente il segno perché prima se erano contenti o meno lo dicevano ai loro cinque dieci amici adesso lo dicono potenzialmente a milioni di persone ma la novità è totalmente dirompente io mi sono trovata a lavorare in questo settore e capire sentire che mi stava veramente stretta questa logica di marketing fatta di acchiappare i clienti che non porta da nessuna parte anche perché i miei stessi clienti mi dicevano i guadagni migliori li facciamo con i clienti affezionati quelli che ci vogliono bene quelli che sono dei veri e propri ambassador che parlano bene di noi i clienti che raccontano con le loro foto magari brutte ma autentiche con i loro commenti sinceri la loro esperienza sono il canale di marketing numero uno e le aziende molto amate non sono solo così carine puccettose cuoricini cardio le ricerche che ho trovato dimostrano che le aziende cardio guadagno un rendimento decennale medio di dieci volte più elevato delle aziende 500 standards and poor americana vale a dire che guadagnano moltissimo perché basano tutto su una strategia diversa da ho un prodotto te lo devo vendere basano tutto sul ho un cliente lo devo far felice e quindi sostanzialmente che cosa differisce il cardio marketing il marketing classifica i clienti lead prospect customer sono sempre dei bersagli militari a cui sparare fondamentalmente da arpionare nel cardio marketing curiamo la persona il marketing dice vieni da me mio prodotto lava più bianco scegli me io sono più bello io sono più figo il cardio marketing dice ti voglio bene voglio far qualcosa per te e quindi non voglio che tu mi solo mi scelga voglio che comunque ci sia una relazione di grande soddisfazione reciproca l'orientamento alla vendita è tipico del marketing l'orientamento alla relazione al migliorare la vita è tipico del cardio marketing e quindi non ci accontentiamo ovviamente di soddisfare il cliente ma cosa c'è più di soddisfarlo deliziarlo quindi andare veramente oltre le sue aspettative e poi a qualcuno qualcuno mi guarda anche un po scettico dice ma davvero tu vuoi bene tutti i clienti no sono una persona non è non è che puoi essere cardio con tutti e anche lì essere cardio vuol dire avere una strategia è far capire quali sono i clienti che voglio io